Capire la tua storia, com'è nato questo desiderio di scolpire, di diciamo diffondere? Questa è da un nuovo tempo. Quaranta tre anni sono qui dentro, allora hai passione diciamo a dipingere e a scolpire la nata di Babbo, il Babbo faceva sedici ore alle povere, aveva assolutamente una scatolina non mi ricorda ancora, sapete che si metteva i soldini? Con quelli faceva tutti, era brava a disegnare, però faceva materialmente e ho preso un po' passione di tardi e fino a undici anni, dieci anni ho fatto tutto che si poteva fare a dipingere, proprio un po' passione. Ma questo luogo nasce come una cucina metano in canca, diciamo così, cosa fate? Un po' di tutto ecco, tutto che riguarda la carpenteria metallica, non macchine, io dietro ce l'ho fatto. Però l'arte spingeva dentro? Beh sì l'arte, perché la cera storiavo è maestro appassionale, è un nostro un po' particolare, in genere viene fatto il bronzo, la cera, la terra, poi la bucione. C'è una colata fuori e ce l'ho fatto. E questo invece io pensai di fare qualcosa diverso. Come la vuoi? Qual è la tua? Ma è una miseria, io prendo un pezzo d'acciaio e il bordo fino a continuazione. Da fare un braccio, prendo un tubo di spessore e continuo con il picco. Perché hai cominciato a lavorare così? Cioè perché non ti è piaciuta un'altra tecnica? Cos'è che ti faceva lavorare? Perchè la cera? Era una cosa sua solo che facevi qui? Sì! No, loro la fanno anche altri, ma le fanno si diverse. Ho visto, sui i dati un po' così, che altri lavorano acciaio? Sì! Con un filo particolare? No, no, no. Allora... La scultura si fatta dei modi. Si fa scultura... Quelle sono ferriciamenti, quindi... Quelli sono dei tubi, rimessi insieme. Da poi essere una scultura questa, senza altre cose. E questa è la scultura quella dedicata a 15 settembre? E ho un conto di fare, per esempio, un viso, fare una ciletta, e poi... Mi disegno quello che voglio fare. Prima volta la parte di Rea. E fai quello che ti senti di fare. Poi, veramente, una persona è fatta anche un pezzo. Questo devo piottere. Tutti i pezzi simboli. Questo è un pezzo, questo è un pezzo, questo è un pezzo... E poi... Li ripeto? Li ripeto, non si salva. In questi due giorni sono abitati. Questo è un valettino rosso, come lo immagino io. Tutti i pezzi. Questo è un pezzo, quindi ho un pezzo, che sono un pezzo, un pezzo... La cosa che è fatta di una... Uno, sei, sette, due all'interno, sono una ventina di pezzi. E li assemblano insieme. Perché poi pensi... Ora, se questo lo voglio fare lucido, io lo romano e lo lucido. E questo lo voglio fare lucido di corpo lucido. Ma ecco, una cosa, come è venuta fuori questa cosa dell'11 settembre? Perché ti è venuta questa cosa della scultura dell'11 settembre? L'11 settembre... Com'è nata l'idea? Allora, mio papà di De La Merida è stato di cominciare, è stato presso del territorio. E' nato in La Merida? E' nato là, si. Quindi le radici tue affondano? Sì, io in De La Merida ho sempre sentito parlare fin da quattro anni. Sempre sono un po' particolato in De La Merida. Ho sentito parlare... Quando è tornato lui in Italia? Quando è tornato? Era piccolo. Però è nato l'anno che il tuo nonno stava? No, no, è in Mitrona Merida. Era Fioritino? Della Coreccia, sì. E andò là per lavoro? Andò là per tutte le possibilità. Perché? Se lo vuole anche dire dopo quattro anni. Lui poi c'è cominciato dei Maiari. Compronterò i Maiari. Quando aveva venduto si accorti di avere una crescita. E quindi disse cosa? L'aveva venduto. L'aveva venduto. Dove non poter vendere quello che lui? Allora vede scappò una Merida. Fece fortuna. Come scappò? Cioè, sapeva per fare andare via. Scappò, si può dire. Allora, conobbe la nonna Veria. Anche lei, Benedetti, 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 Gatti, Luca. Lucchese e Toscana. Lucchese e Ferretino. Si spostarono. Dove? Dove andarono? I primi due anni, quindi qua stavo a lavorare. Si parla dai primi del Novecento. Esatto. Anche i miei nonni andarono, i fratelli miei nonni andarono negli Stati Uniti. Eh, e c'era un signore che sarebbe stato il fratello della Nonna Veria. Si chiamava Duilio. Tantissimi lucchese sia franzisco. Esatto. E lui dava le indicazioni agli immigrati dove potessi sistemare, dove potessi andare. Poi ci andò a quest'altro, ma comunque questa donna, si innamoravano, si sposarono. E compravano un paese di terra a F.Montbay. E fece fortuna. Tant'è che quando tornò... Allora, per noi uscire alla Vecchia c'è un palazzo grande che vira di dietro a la Salavecchia. Con i soldi fatti negli Stati Uniti, tornò qui, voleva tornare in Toscana. Tornò in Toscana, ma tornò qui per vendere soldi... A chi? A questi signori. Tornò a Ducca di un paesino che poi da grandi ci hanno invitato a mangiare laggiù. Con il nonno, l'anziano. E resi a tutti i soldi più di interesse. Che non succede mai. Ecco, il nonno lo fece. Poi da notte poi a San Malone. Ah. E per questi motivi non tornò da. Però il nonno intanto li aveva chiamato. Quando erano là, i suoi fratelli li avevano mandato tre biglietti. Perché aveva bisogno di braccia nel Recio. Ma con la materna. E se non erano i figli, se si è il primo padre, due prese di avere. Due, un massimo aperitivo, l'arteseo e l'arteseo. Questi biglietti andano a media. Il nonno gli aveva dare a dire, se si è putta una miseria. E voleva dei bracci per lavorare, io prendo le bocchia a sua madre. Aspetta, aspetta. Ok, ma torna a lì a media. E il tuo padre invece perché con gli Stati Uniti? È nato là? Il padre è nato a San Cazzo. Perché quando ero scolato i figli di mio nonno sono qua. Allora, tre. Allora, sia Fernando. Il babbo Angelo, il suo fratello Fernando. C'è Melli. Tornata a San Francisco. Aspetta, però arriviamo al punto. Il tuo babbo come gli è venuta la voglia? Com'è nata questa cosa? Hai sempre respirato l'America? Sì. Hai sempre sentito l'America nei racconti? Sì. Nelle idee. Ti è sempre piaciuto un po' agli Stati Uniti? Il mito dell'America? Sì. Ma poi venivano in casa, stanno di parlare. Parlavano anche l'inglese in casa? Il suo Duilio? Sì. E anche la nonna Pelle. La nonna Pelle, io ho dei po' gli iscritti. Quando le ricordi gli americani qui in Italia, poi, se c'è stata la parola, la chiamava. L'Italia, questi americani la chiamavano. Mamma Pelle la chiamavano. E lei un po' la piaceva. Perché capiva, si intendeva. E lei ti dava altre informazioni possibili e immaginabili. E il tuo babbo come è venuta quindi questa cosa? Respirando l'America, come ti è venuta questa scultura? Beh, la cosa che è successa... La tragédia? La tragédia, francamente. E... L'hai trovato come un attacco di bianco? Sì, un attacco di bianco. Poi, da qui, da qui devo pensare una cosa ti offrisci. Ma come dici? Discrivimi quest'opera che hai fatto. Sì. Fammela vedere. Intanto per cominciare poi c'è su un bianco di cosa. Facciano sedato. Facciano sedato. E ci hai messo tutti i nomi? Sì. Sì. E ci hai messo tutti i nomi di... 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 Ma tutto da solo? Non te l'ha chiesto nessuno? No. Ti è venuto a te il desiderio di fare qualcosa? Sì. Per questo, diciamo, avvenimento incredibile che ha cambiato il corso della storia. Sì. E' stato un po' un spartiano. Sì. E' preso che ho pensato a mi rappresentare. L'ameria... Così ho letto di Giove Bambu. Bello. Che è un simbolo per gli Stati Uniti. Esatto. Poi è la spartagnola. Ho fatto un cappellino di un bambino. Certo. Avrei visto tante cose, ma poi... Noi da... Tralasciare cosa. Cappello non manca. Poi... Giove Bambu sono un bianco... E un nero. Insieme. La mano che si... Questa... C'è una gamba del giocatore. E va sulla casa madre, dove fanno il punto. Sì. Ed è pentagonale. C'è tre basi rettangolari e una pentagonale. Quando si fa la pentagonale fanno il punto. I govacov lo chiamano... Giove Bambu lo chiamano in inglese. Ecco. Io rappresentavo in questo senso. Ho racconto... Hai preso i simboli. Esatto. Di New York e degli Stati Uniti. E li hai uniti insieme... Allora, la massa è... Questo punto qua, perché è Ground Zero? Esatto. È Ground Zero dove è esploso tutto. Esatto. Le torri distrutte. Io ho cercato di trovare le fotografie da... È un più... Bello. Si vede queste torri in questa maniera. I giocatori di Balbo perché? Perché la massa rappresenta la forza. Se si vuole è un punto di forza. Non ha altro. Insomma ho rimesso insieme queste cose... No, soprattutto... Forse... Poggiamo su Ground Zero la nostra forza. Ricominciamo da lì. Ed è vero. Era questo il senso. Qui c'è scritto in inglese. Io, Pietro, con un amico... E dove chiamo? Leggio. Abbiamo... Tenga, l'impegno. L'impegno. L'impegno dove l'hanno pensato. Abbiamo spalle grandi. Radici profonde. Nessun integralismo detraverà mai. Insieme decideremo affinché non riaccada mai più. Uniti raggiungeremo la meta. Bello. La meta è quella di... Che questa cosa non riaccatta. Allora, mentre Marzio mi parlava di te... Mi è venuto in mente una cosa. Ho fatto una sorta di... Non so se... Forse la conosci. La storia della Stato della Libertà. La Stato della Libertà è nata da un'idea di uno scultore fiorentino. Cioè, l'idea di fare la Stato della Libertà. Si dice che una copia sia qua a Firenze. Che all'interno della Stato della Libertà ci sono dei pannelli in acciaio. Legati fra loro dai rivetti di rami. Ora non ricordo esattamente. La cultura è in rami. La cultura della carriera è tutta in rami. E poi la base è di granito rosa da Sardegna. Quindi anche la Stato della Libertà parla italiano. C'è tantissime famiglie italamericane che vivono ancora oggi. Insomma, ho paura di anni. Mi scuglio di tante ore. Mi scuglio di tante ore. Ma se succede qualcosa di importante, se ti vedo tutti il pallone, la cantaviglia, la bandiera... Che sentono la sperazione. Però quest'opera qua è veramente bella. Io la prima volta che la vedo. Ed è di forte carica simbolica. Sì. Pottissima carica simbolica. La bandiera è sempre... La bandiera è una cianosidabile. E l'hai dipinta. È una retina cianosidabile. Questa che ti dà attesa. Bella, vedi? Io vedo un'altra cianosidabile. È rosso. Infatti, ho pensato al Stato della Libertà io. Quando mi ha parlato di te e mi ha fatto vedere questo, ho pensato, diciamo, gli stessi simboli. Nel senso, la Stato della Libertà rappresenta la spezzare le catene con la fiaccola che deve essere una fiaccola per tutti. Ora, faccio un sforzo e un parallelismo. Il 11 settembre per gli Stati Uniti è come se fosse un taglio. Si apre una ferita per tutto il mondo. Cambia il mondo dal 11 settembre. Cambia l'economia, cambia il mondo. Ecco, penso che questa tua opera sia veramente perché di un forte infatto il fatto si muove. la musica della rimembranza. Che cos'è? Ecco, sono tutti... Allora, questo è il 175. Quello si controlla Torre Sud. Ma tutto da solo hai fatto questo? Te lo sei scaricato da solo? No, no, questo io ho concluso che non sono neanche a cercare. Vabbè, l'hai cercato però da solo? Sì, sì. E' un artigiano che a un certo punto ha un sentimento d'arte e dice voglio fare un qualche cosa. Cos'è la musica della rimembranza, Raffaello? Spiegamelo, perché quelli erano i nomi dei caduti, dei morti negli aerei. Sì. Cioè, quello lì che hai messo lì sono tutti i nomi di quelli che sono morti. Ci sono anche i pompieri. Tutti. Quelli che sono morti dopo. Pompieri, poliziotti. E di quelli che dicevano che era tutto un complotto l'11 settembre, cosa hai pensato? Per me non io sia. Un po' si arrivava a pensare che qualcuno faceva qualcosa per... A quale fine, a quale scopo? Per che cosa? A che poteva giocare? Sai che molti denigrano questo e dicono? Ah, loro hanno creato questa situazione. Cioè, io sto riportando delle voci. Sai che ci sono i complottisti che dicono ci sono quelli che hanno fatto una manovra l'11 settembre finto, non è vero. Perché le torri non potevano crollare così, non potevano crollare... Se l'ho vista anche io a televisione, io francamente non gli dò speso. Perché, a parte, è vero quello che c'è oggi, diciamo, delle informazioni, che ognuno... io sono così e spara addosso a quel dato, perché non è morto, perché io... Anche se non è vero. Cioè, vuoi dire, ti hanno detto delle cattivelle? Sì. A mio avviso, sì. Perché ti serviva questo per fare quello? Per fare più o meno in scala quelli che sono i resti delle torri. Per dire, se c'era quel tubulario andava su... Ci sei stato? Eh? Sei andato mai a vedere là? No, mi sono andato mai a vedere. Non sei mai andato negli Stati Uniti? No. Babbo sì ce l'ha riportata la mia, perché io avevo 80 anni. Babbo ci voleva sempre tornare, aveva cercato anche di tornarci dagli occhi. Ti piacerebbe che questa tua sfortunata sia esattamente a Ground Zero? Eh sì, mi pare che se no sia un po' un sogno. Cioè, incredibile è come un artigiano italiano, che viene ispirato da una tragedia americana e che fa una cosa, però... D'arte senza pensare che vuoi... Cioè, l'hai fatto senza desiderare un guadagno. Tu è stata una sorta di, come dire, omaggio a una tragedia incredibile. Sì, però è come tutti, quando si fa qualcosa, si spera sempre di avere qualcosa. Di avere qualcosa. Quella venga apprezzata in qualche maniera. Ma lo sanno negli Stati Uniti, ad esempio. Conoscono questa cosa. Perché uno dice, faccio una musica bellissima, ma la faccio in casa mia e nessuno lo ascolta. Cioè, sanno che ti hai fatto questo. Conoscono questa tua opera d'arte. Sì. Io ti ascolto, hai certo di sentire. Eh, l'hai fatto qualcosa per farti conoscere la... Ma l'unico che hai fatto la cosa che avevo conosciuto è che il signore è dedicato la mattina un attimo in mano. Per quello come lavoro io ho un pensiero, ho delle idee e da lì, dalla cosa che magari mi disturba oppure mi fa piacere, cerco di creare qualcosa che rappresenti quello che io penso. Questa è lunga la legge, ma questa è una bocca, una penna e una pistola. Siccome... Le parole fanno più male... Eh, e qui c'è l'inciso tutto quello che io penso e che però ci fanno a noi perché poi... Ma ecco, tutto questo l'hai fatto senza pensare che un giorno potevi venderlo e guadagnarci. Non l'hai fatto col pensiero di guadagnarci. No, e lo fai... È stata una cosa che hai fatto perché volevi esprimere un pensiero. Sì. Questo voglio dire, cioè capire la dinamica. A un certo punto hai detto, ho un disagio, ho un malessere, voglio dire qualche cosa. Sì. E hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto quello. Sì. Questo è il senso. Questo io, beh, questo è Valentino Rossi, come io sono tifoso. Anzi, ho aspettato stasera per vederlo nelle prove. E qui dà la scopa a questa e la scopa a volante. Sì, lo immaginavo anche era bambino. Insomma, per me è un mago, è bravo perché ce n'è poi. Questo è il giovane Valentino Rossi. Sì, come lo immagino io. Perché non l'hai contattati? Ma è come, sai, tu lo fatti a... Tu lo fatti a... Ti ci vuole qualche cosa? Certo. Io ho tempo, non ne ho, o fa una volta o ne fa un'altra. Io cerco di fare il più voglia di fare. Cerco di metterci la passione possibile. Poi c'è una cosa più leggera, che tu fa tanto per fare. Io lo immaginavo da... Un mago l'ho messo su una scopa a 46 fili, come il suo numero. E ha cominciato a brucire. Tutto lì. E la cosa poi la faccio, vedi? L'idea bellissima. E sposta l'aria e questo si ciupa? No, c'è una idea bene, no. Si sporca. Cioè diventasse niente o spunto? Allora, il pronto se lo metti all'aria può anche migliorare. Prende un po' quel verde, per l'azionodonio, per l'ossido. Lasciatevi riman' così, però se io ero scherzo con un secchio d'acqua... E allora che sarebbe bello contattare la città di Palestino, non so quale sia. Cioè a lui gli manca qualcuno che lo proponga. 60 anni fa, c'era... Oggi ci siamo fatti tutto a 12 anni. Quanta anni c'avevi? 13 anni. Questo, questo. Vai di fuori, di fuori con i ciali. Vagamente Ottone e Rosali. Ricorda vagamente Ottone e Rosali. Ti piaceva Ottone e Rosali? Mi piace ancora. Ottone, dai. Eccolo. Una pittura bella. Ebbè. Più che mi ricorda la mia infanzia. Quei muri, le strade... Le strade toscali. Io... Oggi... Tante volte... Io fatisco a stare qui. Se volessi tornare... In vetta la puta... Ci tornerei. Perché mi ricorda... Io passavo una bella infanzia, da piccoletti. Sì. Subito dopo guerra... Non ho sofferto neanche la guerra. Poi adesso siamo andati a trafiggerare. Progresso. Siamo andati avanti. Non muovono tanto. Però è bello. Quell'urlo là è bellissimo. E' l'urlo di Raffaello. Bello. Bello. Il fratello dovevano andare a vedere. Quando venivano a questo lancio... Poi la sera... Questo è quando c'era il saloon. Erano a San Francisco? No. È su Montbuey. In Viennari Bar. Fa parte dell'Alifornia. E' un terreno che poi va sull'oceano. E' vicino all'oceano. E quella sera si trovavano andando al saloon. C'era... Una rivoltetta al palio. Con quelle pesche. Sottolineavamo gli stessi giovani. Erano delle cartine. C'erano così. E poi c'era un picchino di verdice sopra. E la bloccante. Dopo la verdice. E avrei un fogliolino. E dice... Avevi vento? E... E si dirà una sera. E io... E fettilo su. Vincente. Che cos'era? Che storia? Una colt. Che cos'era? Sono racconti fatti dal nonno. Sottolineandosi della famiglia. Esatto. Ti racconto i fatti poi. Questi tizio... E... Ci andiamo... Lui lo si ha provato sulla spiaggia. Si lo ha provato. Ma non lo ha provato. E poi... Come succede questo? La voleva. Dice... Dammena a me. Dammena a me. Dammena a me. Ma si prese. Ah ecco. E lo vuoi astruzzare. Addirittura? E tu vieni scaricato addosso. Gli spavano? Si è avuto. E il mio nonno... Erano amici? Era il sogno. Era il fratello della sua moglie. Ah. Il donno non gli fece fare neanche un giorno in galera. Poi aveva una rivoluzione. E poi c'era il processo e l'ha assorso per le vittimatizie. Ma per racconto un po' le storie che mi sono stati raccontati da... Cioè hai respirato questi racconti. Hai sentito... Io l'America l'ho sempre vista come qualcosa di particolare. Sia dal babbo, dallo zio, dal nonno. Cioè l'America ti chiama? Ma eh... Se c'è qualcosa che riguarda un paese di un altro, io sono per l'America. Punto. Poi perché me lo mandai? Abbiamo andato male. C'è la richiame dei genitori. E qualcosa che riguarda casa mia. Pertanto è così. La nonna era una brava cavallerizza. La nonna veria. Insomma di storie ce n'è tante. Il Natale si passava tutti insieme. Il nonno era a capotavola e cominciava a raccontare. E i babbolo... Come succede sempre a tutte le famiglie. Oggi le famiglie sono diverse. Ma le vecchie famiglie come noi... Poi siamo forti. Non c'era la televisione. Nel momento non c'era no. C'erano più racconti di famiglia. Esatto. Poi io per esempio... Noi ci siamo sposati. Io ho un fratello. Nella solita classe si è sposato. Lui... Da me siamo tutti i guambini. Mi sono sposato io. Mi siamo... Da me siamo una figliola. Tutti nella giornata. Sempre vissi un pochino... La nostra vita... Detto oggi forse... Nessuno lo comprende male. In modo noto. Sia nella parentela. Sia nella famiglia in sé. Il nucleo familiare nostro. Sentiamo la Lisa che suona. Dai facciamo suonare la Lisa. Ok. 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 While the wind is telling you to be alone again Can you hear the wilderness passing messages To all those with nature's will And you and me will be together now that we've found the truth That the billions are split in tongues and I'm here to lick every single one We've held each other so close as the host Of a feast to divine foremines, we gotta find the fire to climb Of a feast to divine foremines, we gotta find the fire to climb Of a feast to divine foremines, we gotta find the fire to climb Of a feast to divine foremines, we gotta find the fire to climb I stand naked with my grandmother without original sin She's knitting me a new white sweater We are standing naked together, giving our breath back to the window I want you, I love you I want you, I love you If you can't come back to you I can't go back to the recreate If you can't come back home it looks like I love you And I have to continue to come back to you como Shibuya How much of a moldy When I came back to this music It sounded like the music I though I got written There were no music This sound Per un fantasma di dare la mia casa, di darmi la mia casa. Quando io abito in questo spazio eterno della luce di Dio, della luce di Dio. Il dolore è il dubbio nell'ombre delle scale che vanno spiralando in questo vecchio cervello. Ma ho la volontà di farlo passare come un aereo pleno. Per spiegare questa idea che Dio vede ognuno che è parte di Lui. Come un cane che va a leccare i suoi cuccioli. Ognuno siamo in un mondo separato di milioni ma la verità è che siamo uno. Ma insomma la tonalità, il modo in cui lei la cantava, ti dà questa sensazione. E ce la vedo bene su questo oggetto. Poi dipende da chi investe, non dipende da noi. È bello. L'America ci chiama. L'America ci chiama. L'America ci chiama. L'America ci chiama. Grazie.